La Toscana e i toscani hanno il diritto di essere governati con credibilità, competenza e capacità. Abbiamo tutto, non ci manca niente. La cultura, l'arte, l'artigianato, il turismo, imprese importanti, l'industria, la manifattura. Il 25 settembre sarà uno spartiacque con le elezioni politiche per permettere di ipotecare il futuro di questa regione in positivo, poterlo governare con competenza. Forza Italia si candida per ribaltare la regione toscana e renderla competitiva come una delle più importanti e principali regioni d'Europa. Non te lo dimenticare. Il 25 settembre in Toscana per votare al Senato della Repubblica Massimo Mallegni è facile, devi fare soltanto una croce sul simbolo di Forza Italia.